Sapete una cosa, io non ci potevo credere, io non ci potevo credere, io penso di stare in un brutto sogno, io penso di stare in un brutto sogno, lo dico veramente, io penso di stare in un brutto sogno, sentito il Presidente del Consiglio Italiano, non è stato eletto da nessun partito italiano, l'Avvocato del Popolo che ha detto noi consentiamo, noi permettiamo, noi consentiamo, noi permettiamo, noi permettiamo agli italiani di poter andare in giro a cercare i loro parenti con un'autocertificazione, noi permettiamo ai baristi di riaprire il primo giugno, caro Presidente del Consiglio, il primo giugno i baristi non aprono, i ristoranti di primo giugno non aprono, il Presidente del Consiglio non consente nulla, la libertà non è a disposizione del nostro Presidente del Consiglio e se io penso quello che gli italiani hanno detto, per i pieni poteri di Salvini mi vengono i brividi, mi vengono i brividi, io voglio, e ve lo dico con franchezza, io voglio dire ai miei amici di sinistra, lo voglio dire ai miei amici grillini, ce ne sono anche quelli, lo voglio dire ai miei amici di destra, lo voglio dire ai miei amici berlusconiani, ragazzi, non c'è un Presidente del Consiglio che si atteggia, noi consentiamo, noi permettiamo, noi vetiamo, vogliamo entrare nel merito, noi permettiamo di andare ai funerali ma non possiamo essere più di 15 ai funerali, quando oggi avranno permesso di andare alla festa della liberazione in 50, ma lascia perdere la polemica, non me ne fotte nulla della festa della liberazione, è il principio, è il principio, io voglio andare, no, non ci voglio andare ai funerali, ma al mio funerale voglio più di 15 persone, non voglio il Presidente del Consiglio che dica in diretta televisiva, noi consentiamo di andare a più di 15 persone, io non voglio un comitato tecnico e scientifico che decide che io non posso andare in chiesa, o non posso andare nella mia moschea, o nella mia... ovunque, ragazzi, stiamo impazzendo, io non ci potevo credere, io quando ho visto il tono, noi consentiamo, noi permettiamo, lo facciamo per il vostro bene, del nostro bene sono lastricate l'inferno, è l'inferno quello che ho letto oggi, facciamo la quinta, quinta, quinta autocertificazione, perché noi consentiamo, d'altronde è stato esplicito il Presidente del Consiglio, il regime degli spostamenti resta limitato, io non accetto che il regime degli spostamenti resti limitato, perché io non posso pensare di vivere in un paese l'unico al mondo, l'unico al mondo, non c'è neanche la Cina comunista in cui il regime degli spostamenti è limitato in questa guisa, non esiste nessun paese al mondo, scusatemi, qualcuno di voi dice stai urlando, ma io non sto urlando, io non sto ancora una settimana in quarantena e il 4 maggio per andare a trovare la mia famiglia in un'altra regione, devo chiedere il permesso al prefetto, ma vi rendete conto? Noi dobbiamo urlare, urlare, io domani non lo potrò fare, perché io sono un uomo moderato, io sono un moderato e cerco di essere moderato, ma dopo che ho sentito il Presidente del Consiglio che mi dice noi consentiamo, noi permettiamo, caro Presidente del Consiglio, siamo noi che consentiamo e non so per quale motivo al mondo che tu sia ancora Presidente del nostro Consiglio, tu sei rappresentante degli italiani, tu rappresenti la nostra Costituzione, la stai violando ogni istante, quella che dovrebbe essere la Costituzione più bella del mondo, che mi dà la libertà di circolazione, la libertà di pensiero, l'assembramento io lo sentivo soltanto dire dalla polizia fascista, se io sto con 10 persone della mia famiglia non è un assembramento, tu non puoi dire che non posso fare i parti familiari, perché è una cosa senza senso, tra l'altro smentita da quello che lui ha detto all'inizio della sua trasmissione, che uno su quattro dei contagi avviene nelle famiglie e quindi è già venuto e ci avete chiuso a casa con le famiglie, non voglio neanche entrare in mezzo, a me del Comitato Scientifico non possiamo dare la nostra libertà a un Comitato Scientifico di cui io non ho la più pallida idea, noi consentiamo, noi permettiamo il 18 maggio la riapertura della vendita al dettaglio, ma se uno può vendita al dettaglio oggi o il quattro maggio, quando decidete voi in tutta la sicurezza, perché? Chi è che lo decide? Chi si è preso questa libertà? Chi l'ha votato? Quale Parlamento ha votato questa roba qua? Voi, parlamentare dell'opposizione, smettetela di cagarvi sotto, domani mattina fate un cazzo di riunione in Parlamento e dite chi è che ha deciso questa cosa qua? Perché l'opposizione non c'è? Perché Berlusconi? Perché Salvini? Perché la Meloni? Perché quei libertari che ci saranno a sinistra non dicono al Presidente del Consiglio che questa roba qua, questa continua violazione delle nostre libertà deve essere votata da un Parlamento? Ci deve essere un Parlamento che vota questa roba qua? Io non voglio un DPCM, voglio qualcuno che alzi il dito che io ho votato e che dica o che non ho votato e che dica caro Premier non va bene, oppure se la maggioranza dei nostri parlamentari decideranno che va bene, so dove andare a vivere nel mondo e comunque si discute, non si possono prolungare le limitazioni della nostra libertà, ma per via quando? Vi è dato una data? Questa sera io so che il primo giugno aprono i bar e i ristoranti, quelli che apriranno, io so che il 18 maggio riapriranno le vendite al dettaglio, i musei, le mostre, le biblioteche, quando finiranno le autocertificazioni? Quando potrò muovermi dal mio comune? Quando potrò fare degli assembramenti? L'assembramento è il principio fondamentale di una cultura libera, vuol dire vedersi con 10 persone, volete la distanziamento sociale? No, va benissimo, un metro, due metri se faccio l'attività sportiva, vi siete fatti tutte le vostre pippe, va benissimo, trovate i modi, le mascherite a 50 centesimi, leggetevi i manzoni sui prezzi dei fornai, leggetevi, ma comunque insomma forse loro non l'hanno letto cosa vuol dire imporre prezzi, ma comunque bello, demagogico, piacere a tutti che avete tolto lì finalmente dalle mascherine, ma il punto che lo consento non va bene, non va bene, io spero che la gente riesca a capire che dal cavolo di balcone per cui ha goduto e ha cantato, siamo arrivati a un Presidente del Consiglio che ci ha detto quello che è consentito e quello che non è consentito, quello che è vietato e quello che non è vietato, quello che è permesso non è permesso, stiamo facendo la quinta autocertificazione, toc toc, sapetevi dire per favore in quale paese del mondo, in quale paese del mondo c'è un'altra, ci sono state cinque autocertificazioni, anche una bisogna chiederlo, e poi nella conferenza stampa io ho letto delle cose straordinarie, a parte il fatto che voglio dire domani glielo chiederò al Ministro Patuanelli, siete dei fenomeni a dire che siete ammirati nelle vostre attività, a parte i 600 Euro che sono arrivati e che, Premier, non sono 11 mila forse le richieste dell'Inps, 11 milioni, ci sta, hai letto male, ma la cosa fondamentale è che nessuno pensi che possa, bar e ristoranti, che nessuno pensi che possa essere un assembramento, perché ora possiamo andare dal 4 maggio a prendere delle cose al bar, ma attenzione, attenzione, ha detto 10 volte, attenzione, però che non sembri un assembramento, e se è un assembramento che fai? Mi spari? Mi arrestate con un DPCM e non possono arrestarmi grazie al cielo? Mi fate la multa perché io sto mangiando la mia schiscetta davanti, o la mia pagnotta davanti al coso? Ragazzi, ma voi riguardatevela, ma riguardatevela con questa luce, ma chi ha attribuito al Presidente del Consiglio questo potere sulla nostra libertà? La grande paura del virus? Noi vogliamo andare avanti così e pensare così, sentite che dice, il decreto sblocca Paese, va bene, come tutte le cose futuribili, ci stiamo, ci stanno guardando anche con ammirazione, io sono la punta, ha detto, ve lo dico bene, io sono la punta di questo sistema, ci stanno guardando con ammirazione, è pericoloso, ragazzi ve lo dico, è pericoloso, bisogna che qualcuno in Parlamento, ma non con i toni che ho io che sono esagerati, qualcuno in Parlamento dica, senta, punta di questo sistema, ma lasci perdere, la punta magari leggiamola, non so se lei è la punta di questo sistema, ma questo sistema non va bene, ci vorrebbe qualcuno in Parlamento che dice, ci stanno guardando con ammirazione, chi ci guarda con ammirazione? Chi? Siamo il paese che perderà più pill, siamo il paese che ha avuto più morti, chi? Chi ci guarda con ammirazione? Mi viene da chiedere, il turismo, morto, e lui che cosa ci dice? Non vi lasceremo soli, guardate che gli albergatori, i tour operator, quelli che guidano gli autobus, gli NCC, i tassisti, sono stati già lasciati soli e non si fidano di te, non si fidano di questo Presidente del Consiglio, sono alle studio, nelle manovre per il turismo, ma cosa è allo studio? Cosa? Ce lo spieghi? Non siamo riusciti oggi in un'intervista, ma poi insomma sull'autocertificazione dei vostri movimenti è chiaro, è normale se ci sono le limitazioni, oggi un'intervista in Repubblica gli ha chiesto, ci saranno le autocertificazioni? Non ha risposto, dopo 12 ore ha risposto, ma che domanda scema, è ovvio che ci sono, alla domanda intelligente della Calabrese che gli ha chiesto cosa ne pensi del fatto che farai lavorare un po' di gente e a scuola non si andrà, ci ha spiegato che nella scuola ha ringraziato i professori, grazie professori, grazie mille professori, forse però anche quei milioni di genitori che hanno i figli a casa bisognerebbe spiegare che le scuole in tutta Europa sono aperte, tranne che in Italia, soltanto noi abbiamo la popolazione più vecchia, può essere però insomma andrà bene così. Ragazzi, io sono davvero, davvero preoccupato, ma davvero preoccupato per il tono, perché qui voglio dire, noi possiamo lasciare al comitato tecnico, un fantomatico comitato tecnico che sembra, vi ricordate quello di indietro tutta, sembra di stare indietro tutta se non fosse drammaticamente in forza la nostra libertà, noi non possiamo dal 4 maggio uscire nei nostri comuni come ci pare, ragazzi, io sembro un pazzo invasato, ma io penso, sono solo? Secondo voi io sono solo un pazzo invasato? Io voglio dire a tutti voi che avete anche perso le cariche, sapete che c'è un dramma, ma che avete perso il lavoro, che avete il vostro bar chiuso, voi pensate che noi ci si possa ancora dopo il 4 maggio fare un'autocertificazione per uscire dalla nostra casa, che sarà cambiata perché ci ha aggiunto qualche cosa, puoi andare a trovare la tua vecchia nonna, ma la tua fidanzata? La fidanzata no, perché finalmente abbiamo ricostituito la famiglia cattolica, alla quale però non permettiamo di andare in chiesa, possono andare ai funerali, massimo 15 persone, ai funerali, meglio che li fate fuori, massimo 15 persone, non è che c'è, qui non si deve ridere, qua si deve piangere, non siamo, guardate che, lo dico sempre, all'inferno si scende a piccoli passi, siamo scesi con un DPCM che ci ha portato agli arresti domiciliari e qui abbiamo fine pena, mai, perché io questa sera non ho sentito quando potrò esercitare il mio diritto di libertà costituzionalmente garantito non di assembrarmi, ma di vedermi con la mia famiglia in un'altra regione, di poter vedere tre amici, cinque amici a cena, di poter andare in un bar, voglio sapere quando finirà. Non te lo dicono perché il problema è la curva, il problema è un altro, io avrei concesso tutto con le restrizioni che a questo punto potevano anche immaginare quelli del comitato tecnico-scientifico, ma poi invece è tutto vietato tranne quello che ci concede il Presidente del Consiglio, Conte. Grazie Presidente che ci hai concesso di andare a funerali non più di 15, grazie Presidente Conte che ci hai concesso di ripetere qualche fabbrica, grazie Presidente Conte perché ci hai concesso e non ci hai vietato di fare un po' di giochi un po' più lontani da casa, grazie Presidente Conte che ci hai permesso di fare giochi sportivi ma a due metri di distanza di uno in uno. Grazie Presidente Conte, ti siamo grati perché noi sudditi di questo sovrano non pensavamo dal Medioevo di dover ringraziare un sovrano per aver ottenuto delle libertà così elementari e basiche che non la magna carta libertatum, non dal 1222 ma dal terzo secolo avanti Cristo forse i romani, i patrizi romani avevano concesso anche ai loro servi. Io penso che sia incredibile, incredibile. Pensate che io esageri? Può darsi, può darsi. A caldo la prima cosa che mi viene fuori dal cuore è che io non mi posso pensare che ci sia un Presidente del Consiglio che mi concede in maniera oltruaie dei diritti che secondo me, sono grazie Nico che mi ha scritto non sei solo, ma è il tono, è il tono che mi fa impazzire. Ciao, ciao, buonasera.